Il nostro è un moto con il quadro, il quadro è un nuovo, 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 ciao, ciao. No, ma non ho capito le date, però non ho capito, è che è le date. E' davvero l'ingrezzazione, questo è il nostro. No, no. Ine, 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 ine. Ine, 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 ine. Siccome è il due, no? Non ha rimeso giù dall'Ia1. No? No, ma le faccio un po' dopo, le facciamo un po' da richiesta. No, le faccio un po'. Che pese! No, ma le auguro. Con la corsa, con le piccole. a che tempo ah? non inquadrate la terra la caloma eh, saccala mostrali, mostrali le camera che sei bim eh via, via cazzo, ho paura di infatti guarda, stai colpata se vuole doveva vivire ma giusto per schermo non c'è una buona, calando su quelle cose più di che non se li sentono che bene se li sentono c'è una manca però c'è il pulgarino eh no no, che sacca di roba le buone un commento, oggi non abbiamo dovuto fare riprese per le cattive condizioni meteo le cattive condizioni meteo ora, abbiamo tra bottadino dai abbiamo tra bottadino guarda lì guarda lì guarda lì c'è la caloma c'è la caloma c'è un leggero mare da sud con rinforti tendente a sud ovest quindi le riprese non sono state effettuate c'è mare scusiamo per la cattiva anche questa giornata diciamo che volge al termine però poteva andare meglio abbiamo rischiato la calata agli escellerati ma non è andata come sperato è bellissimo dica un commento cosa c'è nel mare? ho capito c'è cacchi delle tende su braccia c'è un uomo e ci dà uno a dare ci diamo questa giornata con una ripresa del tramonto alla prossima c'è un uomo qua degli sfoggi guarda lì che c'è staccare è giusto da spesso e da l'altro e i moni alla posta su paligure grazie a tutti grazie a tutti